Era una notizia attesa da migliaia e migliaia di famiglie pugliesi e dall'insieme delle scuole della nostra regione. L'esperienza che la regione Puglia ha fatto in questi anni del progetto diritti a scuola oggi viene considerata una buona pratica a livello di Unione Europea. Sono soldi ben spesi, 25 milioni di euro che non rappresentano un ammortizzatore sociale perché ovviamente consentono a molti insegnanti amministrativi delle scuole che erano condannati al licenziamento, alla strada, consente loro di lavorare. Ma è una buona pratica perché nel giro di pochi anni ha fatto abbattere la dispersione scolastica di 26 punti percentuali. Dietro quella percentuale ci sono migliaia di bambini, di minori, che anche a causa della povertà rischiano di candidarsi al fallimento della propria vita, di non avere la possibilità di esercitare il diritto allo studio. Quando c'è la crisi economica bisogna innanzitutto salvare la scuola, bisogna recuperare ogni bambino, ogni minore e in Puglia noi oggi abbiamo un risultato che serve all'economia perché l'economia la aiuti quando irrobustisci l'armatura culturale di un territorio e serve alla vita e al futuro di quei bambini e serve a dare sollievo a quelle famiglie. Di questo noi siamo veramente molto orgogliosi.